Una vera e propria casa degli errori. Al primo piano, un market della droga e al piano superiore, uno scenario di assoluto degrado ed abbandono, a fare la scoperta all'interno di una casa di Matassino, frazione di Castelfranco Pian di Scoi, carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno, al termine di un'attività investigativa. Al piano terra della casa sono state trovate cinque persone, tra cui una donna, tutte di origine magrebina. Alla vista dei militari, alcuni di loro hanno dato in escandescenza, una addirittura estratto un coltello e minacciato i carabinieri che lo hanno disarmato ed arrestato. La donna ha poi tentato di colpire alla testa con un oggetto contundente uno dei militari. Infine, altri due nordafricani sono stati immobilizzati mentre tentavano di darsi alla fuga. Nel corso della perquisizione sono stati inoltre trovati anche 180 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi materiale per il confezionamento. Un bilancino di precisione 3.400 euro per gli investigatori provento dell'attività di spaccio. Sono così scattate per loro le manette per ritenzione di stupefacenti e fini di spaccio per la donna, anche per resistenza pubblico ufficiale. I militari poi si sono spostati al piano superiore dell'abitazione, dove risiede il proprietario dell'immobile, l'anziana madre, una tanto ottenne. Qui i militari si sono trovati di fronte ad uno stato di assoluto degrado, con pavimenti ricoperti da indumenti, rifiuti, cibo per gli animali, nonché escrementi di cani e gatti, uno dei quali morto è stato di decomposizione. Sul posto è intervenuto anche il personale dell'Asle e i servizi sociali di Castelfranco. Al termine delle operazioni, la donna per precauzione è stata ricoverata all'ospedale della Gruccia per gli accertamenti del caso. Gli animali invece sono stati affidati a persone di fiducia giunte sul posto. Il proprietario di casa è stato denunciato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, detenzioni di armi e maltrattamenti per le condizioni di degrado in cui viveva la madre. Al momento sono in corso ulteriori indagini.